L'impresa formativa consente l'apprendimento di processi di lavoro reali, coniugando la formazione con la gestione di un'impresa. L'impresa formativa è un incubatore sociale che connette il soggetto singolo ad una rete territoriale di enti che operano in sinergia. Per il CHOFS FP il concetto di impresa formativa comprende e integra tre elementi, formazione, lavoro, territorio. L'impresa formativa è un'esperienza di crescita on the job, sperimentale, innovativa e alternativa. L'impresa formativa migliora l'accesso al mercato del lavoro da parte degli studenti, incrementando le competenze tecniche e trasversali richieste dalle aziende. L'impresa formativa ha un forte radicamento con il territorio e opera con la rete delle aziende locali. Dal territorio si ereditano le competenze che creano un'impresa formativa di successo. CHOFS FP è un'istituzione formativa che coniuga l'apprendimento con la gestione di un'impresa.